Di quello che diceva già mia nonna, che diceva che l'importante era salute, tutto il resto non conta, mi cazzo, ragazzi, credetemi. Però purtroppo per apprezzare questa cosa bisogna passarci, se non ci passi non riesci a capire, purtroppo, ragazzi. C'è gente che sprega la propria vita cercando di guadagnare, di far soldi, ma che cazzo ci devi fare con tutti questi soldi, dico io. Viviamo in un paese dove ci sono bambini che vogliono sotto le bombe e cacciatori che vengono pagati un miliardo di euro all'anno. Va va, va, va un culo, va. Anche a Melacchio! Anche a Melacchio! Anche a Melacchio! Anche a Melacchio! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti